Maria Orlando, presidente dell'associazione La Libellula, grazie al suo interessamento si sta provvedendo in queste ore a ripristinare una voragine in via Cimaglia. Che cosa è successo? Nella qualità di presidente cerco di accogliere quante più segnalazioni possibili che mi pervengono da parte dei cittadini, ovviamente ponendo al primo posto quelle che sono dedicate alla categoria che ardentemente rappresento. Via Cimaglia ha una storia alquanto paradossale, una mamma con un ragazzino in carrozzina che da tempo aveva segnalato la presenza di questa voragine sul manto stradale. Il bambino, il ragazzino più volte, secondo le parole della madre, stava rischiando di cascare e quindi mi sono attivata in questo senso cercando di caldeggiare gli uffici preposti affinché potessero intervenire. Sono sincera, il mio plauso va proprio agli uffici preposti perché dietro segnalazione, quando ho realmente fatto comprendere la problematica e quindi l'entità del problema, sono intervenuti in seduta stante e appunto stamattina già si stava ripristinando il manto stradale, asfaltando la zona interessata. Questa città è piena di barriere architettoniche? Purtroppo sì, è il mio crucio già da anni, io sono 13 anni che rappresento la categoria e sono 13 anni che mi batto per questi ostacoli, per queste barriere architettoniche affinché ci fosse una città a misura di diversamente abile, affinché ci fosse l'autonomia tanto auspicata da una persona diversamente abile, sia per quanto concerne il parcheggio, sia per quanto concerne una banale passeggiata nel centro storico, sia per quanto concerne ovviamente il manto stradale che molte volte è l'ostacolo maggiore per quello che è il percorso di una persona diversamente abile. E l'amministrazione comunale negli anni è stata sensibile alle vertenze da lei portate avanti? Sono sincera sì, perché almeno per quanto riguarda le segnalazioni che io espongo agli uffici preposti vengono prese in carico e anche in tempi utili, in tempi abbastanza repentini si provvede poi a risolvere il problema. Adesso la prossima battaglia, il prossimo obiettivo da raggiungere qual è? Il prossimo obiettivo da raggiungere innanzitutto è sempre ispirato a quello che mi viene segnalato, perché io lavoro, opero sulla base delle segnalazioni che mi vengono fatte. Alla fine sono i cittadini i migliori collaboratori delle istituzioni, della politica. Ricordiamo che sempre grazie al suo interessamento sono state ripristinate le strisce gialle anche nell'area parcheggio antestante il cimitero di San Giuseppe alle Paludi. Purtroppo lì era un'altra situazione che mi è stata segnalata dagli automobilisti che si recavano in quella zona e che molto spesso addirittura erano costretti a litigare con le persone, gli altri automobilisti che intendevano parcheggiare facendo presente che quella zona era una zona dedicata alla sosta dei diversamente abili. Sulla base di questi litigi che mi sono stati segnalati da più persone ho cercato di intervenire per far ridipingere quelle che erano le strisce gialle, cosicché si capisce, si comprende, almeno ci affidiamo alla civiltà dei cittadini, si capisce, si comprende che quella zona è una zona dedicata per la sosta dei diversamente abili, quindi intoccabile e anzi il mio appello è proprio rivolto alla collaborazione dei cittadini affinché non rendano ancora più difficile quella che è la permanenza in città di una persona diversamente abile.